La carta per gli aiuti di Stato deve essere equilibrata, ragionata, riflettuta oggettivamente per fare in modo che non ci siano disparità. Va dritto al cuore del problema il deputato del PD Luciano D'Alfonso. La carta degli aiuti europei a finalità regionale dedicata alle imprese non convince, soprattutto perché tra i diversi comuni che hanno presentato domanda in scadenza il 12 luglio, Pescara è l'unico comune dove è stata fatta una zonizzazione a macchia di leopardo. Ho la sensazione che si voglia trasformare Pescara in una città dei Balcani. A Pescara è successo che su 387 vie ci sono delle vie zigzaganti, che ci sono altre no, alcuni numeri civici sì, altri no, non tenendo da conto quali sono le consistenze economiche delle porzioni di città. Si sono fatti almeno 18 mesi di errori, molti li ha commessi la regione Abruzzo, e poi c'è un curioso silenzio da parte di Camera di Commercio e di alcune realtà associative. Mi verrebbe da chiedere al Presidente della Camera di Commercio, spero che si sia fatto indennizzare questo suo silenzio. Un silenzio riguardante le misure economiche per le imprese, che nei fatti a Pescara non sono possibili per questa balcanizzazione delle strade. Noi avremmo avuto bisogno di una distinzione del territorio pescarese per aree di forza economica, rintracciando elementi oggettivi di descrizione curriculare della struttura sociale ed economica di Pescara. Io vi vorrei quasi dire i cognomi che ci sono dietro quei numeri civici fortunati. Lo scriverò presto perché mi piace anche ironizzare. Nelle altre città non si è verificato questo. Noi dobbiamo affrontare questo problema. Ho presentato interrogazione alla Camera dei Deputati, ho visto anche figure rilevanti del Ministero che mi hanno dato ragione e che vogliono trovare rimedio. Però mi dicono che il mutismo della Camera di Commercio deve finire sulle questioni serie e deve cominciare un parlare più lineare della Regione.